Musica Continua la battaglia di Gaza, Israele annuncia di avere il controllo del nord della striscia, situazione umanitaria al collasso, intanto prosegue la trattativa per la liberazione degli ostaggi in cambio di una tregua. Lotta contro il tempo per la vita della piccola Andy Gregory, la bimba britannica, affetta da una grave patologia per cui i giudici hanno deciso di sospendere oggi i supporti vitali, i genitori hanno annunciato ricorso. Ciak si gira, si torna al lavoro a Hollywood, dopo 118 giorni di sciopero è stato trovato un accordo tra sindacati e studios, resta il nodo della intelligenza artificiale. Buongiorno dal TG2000, Hamas ha dunque perso il controllo del nord della striscia di Gaza, ma c'è una nuova pioggia di missili sui kibbutz di confine già evacuati dopo il massacro del 7 ottobre. Sentiamo allora Maurizio Dischino. Bombe nella notte e spari nella mattinata. Implacabili massicci attacchi israeliani su Gaza in reazione al sanguinoso assalto terroristico di Hamas, subito sul proprio territorio il 7 ottobre scorso. Le forze di difesa israeliane stamani hanno affermato che in un'operazione di fanteria condotta ieri, dopo 10 ore di battaglia, hanno preso il controllo di una rocca forte di Hamas nell'area di Jabalia, nel nord del territorio palestinese della striscia di Gaza. L'esercito di Tel Aviv ha dichiarato di aver ucciso terroristi, sconfitto miliziani di Hamas e della jihad islamica. Ha poi sostenuto di aver trovato armi e scoperto tunnel di Hamas con un ingresso vicino ad un asilo. L'agenzia di stampa ufficiale palestinese UAF ha denunciato che ieri sono stati uccisi 30 palestinesi nei raid israeliani contro il campo profugue di Jabalia. In mattinata il governo di Tel Aviv ha fatto sapere che tra le 10 e le 16, ora locale di oggi, la strada Salah al-Din rimarrà aperta al traffico da nord a sud per consentire ai civili palestinesi una via di fuga dalle aree di Gaza sotto attacco israeliano. Finora 50.000 palestinesi hanno utilizzato il corridoio per andare verso il sud della striscia di Gaza anche nella speranza di raggiungere l'Egitto. Nel frattempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme sulla rapida diffusione di malattie infettive. Infatti sono quasi 1.500.000 gli sfollati palestinesi della striscia di Gaza che vivono in rifugi gravemente sovraffollati con scarso accesso a strutture igieniche e acqua potabile. E intanto Israele conferma che non ci sarà tregua senza il rilascio degli ostaggi ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra. Buongiorno, noi ci troviamo proprio nel cuore di Tel Aviv in quella che è stata ribattezzata la piazza degli ostaggi. Vedete, alle mie spalle ci sono proprio delle tende da campo dove alcuni familiari degli ostaggi dentro casa, 240 ostaggi ancora dentro casa stanno giorno e notte perché vogliono fare pressioni al governo israeliano perché la priorità sia innanzitutto la loro liberazione. Ci hanno detto poco fa, se non saranno liberati, se non torneranno vivi, la guerra sarà persa. Ecco, dove siamo proprio si vede. Ci sono le tende ma c'è anche accanto a me alla sinistra un tavolo lunghissimo preparato come per una cena di Shabbat con appunto 240 posti e poi ci sono anche le sedie dove c'è appunto il volto di ogni ostaggio su queste 240 sedie. Sappiamo che fino adesso sono stati liberati solo quattro ostaggi e poi una soldatessa israeliana è stata liberata durante un blitz dell'esercito e si parla da ieri sera di questa trattativa in corso che sarebbe mediata sia dal Qatar che dall'Egitto per liberare 12 ostaggi di cui sei avrebbero doppio passaporto israeliano e americano ma ieri sera anche dalla Casa Bianca si è fatto capire che non si sa quanti saranno gli ostaggi dove sono e soprattutto quanti di loro sono ancora viva. E appunto secondo alcuni mass media locali una buona notizia da questo punto di vista potrebbe arrivare questa sera. In cambio certamente Hamas chiede una tregua umanitaria di almeno tre giorni quindi un cessato il fuoco di tre giorni è anche un'ipotesi in cui sappiamo stanno spingendo con forza anche gli Stati Uniti e da Tel Aviv la linea può tornare a Roma. Grazie ad Alessandra Buzzetti. Noi ci sfostiamo in Ucraina dove il presidente Zaleski assicura che Kiev ha fatto passavanti a sud e a est nella riconquista di territori soddisfazione per la raccomandazione della Commissione Europea in merito all'apertura dei negoziati con l'Ucraina per l'adesione alla UE. Barbara Masulli. Da New York intervenendo alla conferenza Reuters Next Volodymyr Zelensky si è mostrato ottimista sui risultati ottenuti sul campo dal suo esercito. Abbiamo fatto lenti passi in avanti a sud nella regione di Kherson e a est. Siamo sulla buona strada per ottenere risultati militari entro la fine dell'anno. Le parole del presidente che inoltre si è detto soddisfatto dopo che la Commissione Europea ha raccomandato l'apertura dei negoziati con l'Ucraina per l'adesione all'Unione. Da Mosca la reazione del portavoce del Cremlino Peskov secondo cui sconfiggere la Russia sul campo di battaglia è impossibile. E intanto proprio sul campo si continua a sparare stando alle informazioni diffuse dal Dipartimento regionale settentrionale del Servizio Statale della Guardia di Frontiera l'esercito russo nell'ultimo giorno ha bombardato per 24 volte le comunità nella regione di Cerniv vicino al confine. Due residenti nella regione del Donetsk invece sono stati uccisi ieri dalle truppe di Mosca e un'altra persona è rimasta ferita mentre un missile russo è stato abbattuto nella notte nell'oblast di Dnipropetrovsk, terza città dell'Ucraina dopo Kiev e Kharkiv. Sul fronte opposto il governatore della regione russa di Belgorod ha denunciato l'attacco ucraino con un sistema a lancio multiplo di razzi contro aree abitate. La polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino algerino di 37 anni destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dall'Algeria per partecipazione ad associazione terroristica. L'uomo è stato individuato nel corso di uno dei controlli nelle metropolitane alla vista dei poliziotti. Il 37enne si è mostrato particolarmente aggressivo e ha cercato di afferrare dal proprio zaino un coltello con una lama di oltre 12 centimetri. Dagli accettamenti in questura è emerso che l'uomo è ricercato dall'autorità algerine in quanto ritenuto fino dal 2015 appartenente alle milizie dello Stato islamico impiegato nel teatro bellico siro-iracheno. E la giustizia britannica ha fissato a oggi il termine per staccare le macchine che tengono in vita Indy la neonata inglese affetta da una grave patologia. La bimba potrebbe essere accolta all'ospedale. Bambino Gesù di Roma e i genitori hanno annunciato ricorso. Sentiamo Pierluigi Vito. Sono ore di attesa per l'ultimo disperato appello alla magistratura inglese. C'è tempo fino alle 14 locali, le 15 in Italia per provare a ottenere il rinvio del distacco dei supporti vitali alla piccola Indy Gregory, la bambina di otto mesi affetta da una rarissima malattia mitocondriale. L'Alta Corte di Londra ha accolto il parere dei medici del Queen's Medical Center di Nottingham dove è ricoverata sin dalla nascita. Secondo loro la bambina è in evidente stato di angoscia e dolore ed è nel suo interesse estubarla. I genitori hanno chiesto che almeno fosse concesso di riportarla a casa per far spirare Indy tra i suoi cari ma secondo i dottori potrebbero sorgere complicazioni ingestibili senza professionisti e risorse idonee al caso. A nulla quindi sarebbe valso l'interessamento dell'ospedale Vaticano Bambino Gesù per sottoporla a cure palliative come pure la concessione della cittadinanza italiana decisa dal nostro governo due giorni fa. La differenza è tra il guarire e il curare. Guarire non si può sempre, curare lo si può fare sempre. Penso che se passasse questa linea dove tutte le malattie che non sono guaribili e non devono pertanto essere curate per cui le persone che si trovassero in queste condizioni dovrebbero essere automaticamente soppresse. Si capisce bene che questa decisione va contro l'uomo contro la persona, contro la dignità della persona. Il rispetto della vita non va ridotto a una questione confessionale poiché una civiltà autenticamente umana esige che si guardi ad ogni vita con rispetto e si accolga con l'impegno. A farla fiorire in tutte le sue potenzialità è solo uno dei passaggi del messaggio della CEI per la 46esima giornata nazionale per la vita che si celebra il 4 febbraio 2024. E resa nota stamani, Antonella Massaterwe. Che sia un nemico, un disabile, un bambino, un nascituro, una donna, un migrante persino un lavoratore sono tante le vite oggi messe a ripentaglio. Invece nessuna vita va mai discriminata, violentata o eliminata. I vescovi italiani in vista della giornata nazionale che si celebrerà il 4 febbraio prossimo lo ribadiscono in un messaggio che propone a tutti di guardare con occhi sinceri perché se si va al di là di visioni ideologiche distorte ogni vita si rivela un dono prezioso ed è capace di donare qualcosa agli altri. Lo dimostrano l'esperienza, la storia con gli sbagli del passato a cui se ne aggiungono di nuovi oggi favoriti dalle crescenti possibilità tecnologiche nella manipolazione dell'essere umano. Lo dimostra la scienza dinnanzi alle aumentate conoscenze sulla vita nel grembo materno. È la vita stessa ad aver solide ragioni non la sua funzionalità. Grande è la preoccupazione dunque per i testi di legge, locali e nazionali sull'eutanasia ma vengono rigettati anche l'utero in affitto il traffico di organi, l'uso delle armi la violenza, la tratta, la pedopornografia, l'aborto indebitamente presentato come diritto sempre più banalizzato anche mediante farmaci abortivi del giorno dopo drammatica invece la crisi demografica che dovrebbe essere uno sprone a tutelare la vita nascente intervenendo con opportuni sostegni per rimuovere ostacoli economici e sociali perché è una questione di civiltà non di fede anche se la difesa della vita ha un inderogabile impegno per tutti i credenti tanto che la giornata per la vita nell'ottica dei vescovi assume un significato interreligioso le persone transessuali possono ricevere il battesimo così come i figli di coppie omosessuali anche se nati da utero in affitto lo afferma il di Castero per la dottrina della fede sentiamo Paolo Fucili se non c'è rischio di generare scandalo o disorientare i fedeli un transessuale può essere battezzato come chiunque altro anche dopo trattamento ormonale e intervento chirurgico di riattribuzione di sesso può anche essere padrino o madrina di battesimo che non è però un diritto quindi sarà prudente non consentirlo se c'è pericolo di scandalo in debite legittimazioni o disorientamento della comunità in tre pagine di un documento pubblicato ieri con approvazione firmata del Papa il di Castero per la dottrina della fede per mano del prefetto Cardinal Fernandez affronta il non facile tema transessuali, omosessuali e loro partecipazione ai sacramenti del battesimo e del matrimonio in risposta a una lettera del vescovo brasiliano José Negri di Santo Amaro si parla anche di bambini avuti da coppie omosessuali con adozione o metodi come l'utero in affitto la condizione per battezzarli è quella valida per tutti che ci sia cioè fondata speranza che saranno educati nella religione cattolica e ancora padrini e madrine di battesimo a norma di diritto canonico devono condurre vita conformi all'incarico assunto e non è questo il caso di omosessuali conviventi in una stabile e dichiarata relazione un emore oxorio ben nota alla comunità ma la debita prudenza pastorale si legge ancora esige che ogni situazione sia saggiamente ponderata e infine niente proibisce a transessuali e omosessuali conviventi di essere testimoni di matrimonio la violenza sulle donne è una velenosa gramigna che affligge la nostra società e che va eliminata dalle radici queste radici sono culturali e mentali crescono nel terreno del pregiudizio del possesso della ingiustizia sono le parole con cui Papa Francesco partecipa all'iniziativa un'onda lunga contro la violenza maschile sulle donne davanti alla piaga degli abusi fisici e psicologici sulle donne dice il Papa c'è l'urgenza di riscoprire forme di relazioni giuste ed equilibrate basate sul rispetto e sul riconoscimento reciproci condizionamenti di ogni tipo vanno contrastati con un'azione educativa che a partire dalla famiglia ponga al centro la persona con la sua dignità e si aprirà il prossimo 18 gennaio davanti alla corte d'assise di Milano il processo in cui Alessandro Impagna Tiello è imputato di omicidio per aver ucciso con 37 coltellate Giulia Tramontano la sua fidanzata è incinta al settimo mese Beatrice Bossi Dovrà presentarsi in tribunale per la prima udienza davanti ai giudici il prossimo 18 gennaio il rito immediato consente di accorciare i tempi della giustizia e ad otto mesi dalla morte di Giulia Tramontano Alessandro Impagna Tiello dovrà rispondere di omicidio volontario occultamento di cadavere e interruzione non consensuale di gravidanza era il 27 maggio quando Giulia, incinta al settimo mese viene trafitta da 37 coltellate nella loro abitazione di Senago, nel Milanese secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe cercato in seguito di disfarsi anche del corpo prima tentando di dargli fuoco nella vasca da bagno poi abbandonandolo in un sacco di plastica per strada a pochi metri da casa un piano eseguito tutto da solo il cui tentativo era già cominciato mesi prima gli investigatori infatti hanno trovato in casa della coppia delle bustine di veleno le cui tracce sono state rinvenute anche nel corpo di Giulia e nel bimbo che portava in grembo in base alla ricostruzione degli inquirenti infine il presunto assassino avrebbe potuto uccidere anche un'altra donna la collega con cui aveva una relazione parallela che interrogata dai magistrati ha confessato di aver avuto paura di lui quella notte e non lo fece entrare in casa e cambiamo argomento si torna al lavoro a Hollywood dopo 118 giorni di sciopero il sindacato degli attori americani ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i principali studios Caterina Dall'Olio Mese e mesi di protesta qualcosa sono servite anzi per essere precisi 118 giorni di sciopero le maestranze di Hollywood hanno raggiunto un accordo provvisorio con i principali studi per risolvere lo scontro che ha scosso l'industria dello spettacolo nella nuova era dell'intelligenza artificiale e le star festeggiano sui profili social d'Alec Baldwin e Ottavia Spencer lo sciopero cominciato a luglio e costato miliardi di dollari all'economia statunitense si conclude oggi grazie all'intesa sul nuovo contratto collettivo triennale per gli attori del valore di più di un miliardo di dollari il Sagaftra e il sindacato appunto pubblicherà i dettagli tra qualche giorno ma ha anticipato che l'accordo prevede un aumento significativo delle retribuzioni minime e garanzia sull'uso dell'intelligenza artificiale oltre a stabilire per la prima volta un sistema di bonus per le repliche in streaming i 160.000 attori controfigure ballerini e altri professionisti del piccolo e grande schermo rappresentati dal sindacato dovranno ora approvare il nuovo contratto collettivo ma il passaggio è considerato una formalità rimane però misteriosa la questione dell'intelligenza artificiale gli attori temevano che gli studios potessero usare la tecnologia per ricreare il loro volto e la loro voce senza il loro consenso e senza ricevere un compenso ci sono rassicurazioni in tal senso ma niente di più è tutto per ora vi lascio al metto a terza pagina grazie per averci seguito a più tardi grazie a tutti grazie a tutti